Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la pioggia in A12 tra Pisa Centro e Rosignano e in FIPILI tra Firenze e la diramazione per Pisa. Sulla statale 1 Aurelia svincolo chiuso per lavori a Gavorrano in direzione sud. Sulla statale 3 Bistiberina tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Sempre verso il raccordo Viterbo-Terni è chiuso anche lo svincolo di Canili. Infine per gli aerei il volo Ryanair da Siviglia atteso a Pisa alle 15.40 è stato cancellato così come la sua ripartenza delle 16.05. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!